Parte, ha detto Zingaretti, un grande progetto italiano. Ma io direi da stasera rifarte il grande progetto toscano. Sono molto contento, oggi è stata la prima giornata in cui ho potuto vivere le cose con lucidità e serenità perché dubbiamente fino a ieri mi sentivo avvolto da questo entusiasmo che vi è stato subito dopo i risultati. Per me è una sensazione unica nella vita, con Dario ci siamo sentiti costantemente, ci siamo parlati. È davvero una grande prospettiva per l'orizzonte che ha la Toscana davanti. È giusto essere qui nella Toscana che festeggia e essendo qui pensando a tutti coloro che si sono battute in queste settimane, candidati, candidate, donne, uomini, militanti, chi ha vinto, chi ha perso, ma ha combattuto. E anche a tutti loro dico grazie. Noi vogliamo dare agli italiani di nuovo qualcosa in cui credere. Lei ha detto, ho fatto il gregario per una volta, ma... Oggi è un giorno di festa, oggi festeggiamo e basta.